Iniziano oggi dei lavori che contiamo di ultimare entro il mese di aprile, se la stagione come prevediamo ci darà questa possibilità. Si tratta di sistemare e razionalizzare l'ingresso al cimitero monumentale per mettere in sicurezza anche i pedoni, visto che oggi vi è una commistione tra passaggi e percorsi pedonali e percorsi carrabili. Si tratta di un intervento che prelude a tutta una serie di sistemazioni che saranno fatti nel nostro cimitero monumentale, finalizzati a rendere anche il nostro cimitero al passo con i tempi. A parte un momento di disagio iniziale legato ovviamente al cantiere che sta avanzando, ma ci siamo organizzati in modo tale di riuscire a utilizzare in modo parziale l'entrata, sicuramente questo porterà una riqualificazione complessiva della viabilità di via Cremona in prossimità del cimitero monumentale, nonché la sistemazione di tutto il parcheggio e favorire soprattutto l'accesso al forno crematorio in modo tale che vengano mantenute delle condizioni di sicurezza anche per i pedoni e questo è stato fatto anche in relazione al fatto che è recente la realizzazione della pista ciclabile in Fregio via Cremona. Il tutto dovrebbe ovviamente facilitare l'utilizzo e l'accesso anche al cimitero a chi ne fa uso o in bicicletta oppure proprio a livello di pedoni. Verrà previsto l'accesso al cimitero monumentale in modo tale che sia solo in entrate, in modo tale che venga valorizzato anche quello che è il cimitero nel suo aspetto monumentale e le uscite verranno fatte invece ai lati, verso la parte degli angeli verrà fatto il rondò perché in quella zona là, in prossimità appunto dalla parte degli angeli, abbiamo anche l'accesso al forno crematorio.